Con questa vista sulle colline di Faenza, con questa strada nella primissima campagna lato forlì, con questo giardino, beh, non ci sono parole per descriverlo. Allora, che cosa aspetti per venire a vederlo? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa in vendita. Ci troviamo tra la via Emilia e via Santa Lucia, in questo complesso che è stato ristrutturato completamente nel 2012 e qui si trova questa casa abbinata, libera su tre lati, dove abbiamo al piano terra un'ampia zona giorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio, al piano primo una zona relax o studio o zona giochi anche per gli adulti, altre due camere mansardate ed il secondo bagno, in più questo bellissimo giardino ad angolo e il garage in un corpo distaccato. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!